Per uscire dal ghetto di New York, questi tre ragazzi decidono di entrare nel mondo del crimine. Ma il proibizionismo farà molto di più, farà passare i loro nomi alla storia. Charlie Luciano, vorrei che lavorasse per me. Mio padre ha fatto l'operaio tutta la vita, signor Presidente. Si offriva a chiunque gli pagasse un giorno di lavoro, ma io non lo faccio. Domani sera, i giorni del padrino. L'ascesa di Charlie Luciano, detto Lucky Luciano. Su Italia 1, alle 20.30. Grazie a tutti.